Ha tentato di corrompere un doganiere con lo scopo di far passare la sua valigia in aeroporto anche se pesava troppo. E' quanto accaduto ad una bielorussa di 53 anni arrestata a Fano dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile su segnalazione dell'Interpol. La donna sarà estradata su richiesta della magistratura di Stoli in Bielorussia. Secondo l'accusa infatti avrebbe cercato di corrompere un ufficiale doganale infilandogli 100 euro in tasca affinché forzasse la procedura superando i limiti di peso imposti per il trasporto dei bagagli aerei e facesse passare una valigia di 116 chili. La donna è stata condotta in carcere e messa a disposizione della procura generale.